Benvenuti a Esplorare i confini, una serie di puntate prodotte dal Circolo Bianchini di Fano. Si tratta di un viaggio nel passato, nel presente, con uno sguardo rivolto al futuro. Visiteremo virtualmente Pompei, parleremo di medicina oggi nel mondo, parleremo di Medioevo e di Romanticismo, di arte antica e arte contemporanea. È un'esplorazione fatta con i nostri mezzi, ma con tutto l'impegno di chi crede che la passione della ricerca, l'esplorazione della scienza, della cultura, dell'arte sia un qualcosa che arricchisce le nostre vite e soprattutto un qualcosa che deve essere aperto a tutti. Se questo progetto vi piace, vi invito a visitare il nostro sito internet e i canali social e, se credete, a sostenere la nostra attività. A nome di tutto il Circolo, vi auguro una buona visione. Oscar Piattella è nato a Pesaro nel 1932. È pittore da sempre perché fin da ragazzo ha nutrito un trasporto inedito per la pittura. È stato allievo di Alessandro Gallucci, noto pittore pesarese, che lo ha accolto nella sua bottega quando era molto giovane. Laureatosi in farmacia, si è trasferito a Cantiano per motivi professionali, ma ha immediatamente sentito di trovarsi nel posto giusto, un naturale appriodo sotto le pendici del catria e dell'acuto, che gli consentirà di vivere un particolare contatto con la natura. Negli anni Cinquanta è stato protagonista del panorama artistico pesarese accanto ad Arnaldo e Gio Pomodoro, sublimi, orefici e scultori, all'amico Nanni Valentino, a Giuliano Vangi, a Loreno Sguanci e ad altre personalità di artisti. Nel 1957 ha compiuto un viaggio a Parigi ed è così che la sua arte si è cominciata a confrontare, in diretta, con il clima infuocato e ribollente della Ville Lumière. Nel 1958 Franco Russoli, uno dei più autorevoli critici di arte contemporanea del tempo, organizza per piattella una mostra nella Galleria Lariete di Beatrice Monti, che gli consenterà di stringere amicizia con l'astrattista Piero Dorazio, con gli spazialisti Enrico Castellani e Lucio Fontana, con Tancredi Parmigiani, l'arte del segno, Ercole Sotsas, architetto e designer, per nominare solo alcuni degli artisti che battevano il palcoscenico artistico italiano ed europeo. Da questo momento terrà mostre a Roma, Torino, Parigi, Taiwan, Shanghai. Però la sua terra di origine non poteva dimenticarlo e allora allestiva per lui mostre a Caglie Cantiano nel 1999, Pesaro nel 2002, Sassoferrato nel 2004, l'antologica di Gubbio che si terrà nel Palazzo Ducale nel 2010. Altre esposizioni avranno luogo a Gualdo Tadino nel 2014, a Monte di Don Corrado, patria di Osvaldo Licini tra il 2016 e il 2017, a Durbino nel 2017 e a Perugia nel 2019. L'11 ottobre 2020 si è chiusa la personale dal titolo Disgregazione e unità che aveva aperto i battenti il 26 giugno presso il Centro Arti Visive Pescherie di Pesaro, il cui sottotitolo è stato Solcando la misura rinascimentale di Urbino, con esplicito riferimento a Raffaello. Queste sono le principali tappe del suo percorso artistico, il periodo dei muri che è data dal 58-59, in cui Piattella dà vita all'opera con la stessa paziente manualità di chi ha costruito le cose dal mondo, chinandosi sui materiali, immergendovi le proprie mani fino a farsi penetrare i pori della pelle per poterli davvero piegare alla propria visione pittorica. Sono queste parole di Sandro Parmigiani, noto critico d'arte. La Rocca, del 1955, introduce al tema del muro, in cui nel dipinto diviso in sezioni si riconoscono ancora accenni di realtà, dove file di mattoni si alternano a macchie di intonaco e accenni di porte o finestre di sironiana memoria. In Piccolo Muro e Cielo Rosso, del 59, mio caro Rosa, del 58, la superficie del quadro viene invasa da un brulicare di forme in rilievo, minuscoli nidi di rondine in cerchi, se assimilarsi al quadrato o al cerchio, la cui vibrazione cromatica vive nella tensione che si genera tra il loro perimetro e il colore di fondo, con balugini che qua e là si accendono, una vera sublimazione del muro stesso. Ma, agli inizi degli anni Sessanta, proprio colui, ossia Michel Tapie, che aveva espresso con tanta vemenza adesione alla nuova poetica, accusa l'informale di essersi evoluto in Accademia e dunque taglia i punti con il movimento. Piattella si rifugia allora in quello che avvertiva come unico faro a illuminare la notte nel buio della crisi, Osvaldo Licini, pittore marchigiano. Tra le sue opere vediamo anche due omaggi all'artista di Monte Vidon Corrado. Nelle opere degli anni Ottanta i muri continuano ad ispirarlo, però essi sono divenuti più piatti, come in un avanzo d'amore in cui le piccole tessere di tela bruciate ai margini alludono, oltre che ai mattoncini, ai foglietti di un blocco d'appunti smembrato e attaccato sulla telea. E Butterfly Land, un'opera del 1986, nel quale le sete bruciacchiate e incollate l'una sopra l'altra irradiano senza fine vibrazioni luminose, sollecitando l'occhio a spostarsi da una testa all'altra come se gli fosse impossibile arrestare lo sguardo. Il terzo millennio si inaugura con ulteriori ricerche, madreperle e materie sabbiose. Una pagina di luce, 2002, terra e grano, nel 2003, sono, a mio parere, alcuni apici che l'arte di Piatella tocca. Nel primo, il contrasto tra la pagina che irradia luminosità della madreperla e quella intrisa d'ombra e di silenzio, realizzato con la sola stesura della sabbia, si fa poesia. Nel secondo, lentamente, questa articolazione spaziale, interagendo con i materiali madreperlacei, produce editi di grande suggestione formale. Il Lucci di Viola, un'opera del 2009, il pittore ha ereditato dalla madreperla la luce e attraverso l'oro illumina i diversi punti di viola. In mostra erano presenti dipinti come luci del solferino o luoghi di luce o ancora i panni della pittura. Il colore che si denuda è il titolo del catalogo che egli ha realizzato per la mostra di Gualdo, nel 2014, in cui sembra che la pittura lasci al colore, sempre meno coprente, un aspetto fluido e a fratti frettoloso. Quest'ultimo si mescola, sbava, penetra tra le superfici di legno. A Dugo Amati, amico psicanalista, che chiedeva a Oscar quale fosse la novità della mostra, egli rispondeva, è il colore che scivola come su un campo da sci. La luce smagrisce, starina, la materia si sfina. Allora anche il colore dimagrisce, ma resta dialogante. Sono ancora parole di Oscar Piattella. È la volta di opere come una luce rosa del 2011, un'ombra del 2013, ancora oro nel blu, sempre del 2013. Le stelle. Nell'ultimo periodo, Piattella alza gli occhi al cielo e allora l'assialità o anche l'ortogonalità dei dipinti precedenti viene sostituita da linee oblique, diagonali, comunque dinamiche. In Anche le stelle sognano, fioriscono le stelle, metamorfosi siderali, un centro per due stelle, solo per fare degli esempi di questa ultima fase, lo spazio pittorico vive dell'articolazione di questi fasci di forze, che sono energia pura. Ciò avviene secondo un rigorosissimo vaglio del rapporto tra colori fondamentali e complementari che si generano gli uni dagli altri e che fanno sì che varie gradazioni dello stesso colore si sosseguano come in un prisma. Sono queste ultime parole di Fabio Scotto, poeta, saggista, professore universitario. Innanzitutto, vorrei che inquadrassimo la tua arte nella storia. Tu senti di essere entrato per lo meno per alcuni anni della tua produzione nell'orbita del movimento informale? Dunque, questa è una storia vecchia mia. io la rifiuto nel senso che io ho sempre costruito i miei quadri in maniera molto architettonica. Allora, perché mi dicono che io sono informale? Perché sono... io nasco dall'informale. Nasco dall'informale e la mia considerazione nei riguardi di questa corrente storica è stata soprattutto quella di tenere in alta considerazione i materiali che venivano usati dagli artisti che avevano fondato l'informale. Cioè, materiali che non erano più quelli della tradizione, ma quelli della vita comune. gli stracci, le balle, pezzi di legno di rifiuto, insomma, materiali di rifiuto. Perciò l'informale è stato importante per me per questo, perché io sono... mi sono allontanato dalla pittura classica, dalla pittura a olio e mi sono gettato con tutte le mie forze alla ricerca di questi materiali fino ad arrivare addirittura a usare il carbone, ho usato anche addirittura la terra rossa dei campi da tennis, per dire. Ma poi tantissime altre cose, tutte le brecce, i miei amici quando andavano in ferie, io gli chiedevo, andavano in ferie in questi posti meravigliosi dove c'erano delle spiagge favolose, gli dicevo sempre portatemi delle sabbie, delle sabbie di questi posti e io ho moltissime sabbie proprio portate da questi miei amici, perciò usavo le sabbie, ho usato l'oro, ho usato la ghisa, la ghisa in polvere e così tanti altri materiali, ecco perché mi dicono forse che sono informale, ma tranne forse degli incontri così quasi a sperimentare questa questa informale, sì, diciamo la politica di questo informale, ma io non sono stato mai informale, ecco perché rifiuto questa etichetta, però nonostante tutto continuano a dirmi pittore informale, io non sono informale, tutti i miei quadri qui della mostra, cominciando da quelli del 55, sono dei quadri costruiti in maniera quasi rinascimentale, comunque loro sono contenti così e io continuo a dire che non sono informale e andremo avanti in questa maniera. come scrive Alberto Mazzacchera, tu poni con la ricerca condotta nelle superfici della tua opera la questione del muro che è distraziante centralità nel novecento e che ancora oggi dilania i popoli e addensa gli egoismi. sei d'accordo con questa interpretazione politica del muro? beh, io non non vorrei avere dei meriti che non ho nel senso di arricchire questa considerazione del muro con delle motivazioni politiche che potrebbero dare un senso ulteriore a questo rapporto che io ho avuto con il muro. Per me il muro è stata un'esperienza fondamentale perché mi ha tolto dalla visione prospettica del rinascimento e sono passato proprio dal cioè io abitavo qui a Pesaro e dalla mia finestra ero di fronte all'albergo Zongo e dalle mie finestre vedevo aprivo le finestre e c'era un muro davanti non lo so perché molti mi hanno chiesto ma dove è la scaturigine e la motivazione di questo muro ecco da un certo punto di vista è stata questa quella di cui poco affatto ho parlato poi dall'altro punto di vista forse cos'è perché io ero lì avevo dieci nove dieci anni quando sono stato sono andato ad abitare in via Sabatini qui a Pesaro proprio di fronte a questo albergo e vedevo sempre questa struttura del muro aprivo le finestre e vedevo questo muro forse questa cosa mi ha impressionato e mi ha condizionato e mi ha aiutato a costruire il quadro in maniera così quasi geometrica poi con le con le dovute variazioni nel tempo naturalmente e di conseguenza direi che politicamente io non ho mai pensato che il muro fosse certo non l'ho pensato in rapporto alla pittura naturalmente poi ho pensato sempre che i muri fossero una cosa insomma l'uomo nella sua vita non deve erigere dei muri per distanziarsi per staccarsi dall'altro anzi deve fare proprio il contrario semmai dovrebbe aprire delle porte invece di erigere dei muri però il muro per me è stato importante è stato importantissimo perché è cominciato tutto dalla considerazione della superficie della tavola della tela che io ho cominciato ad avere un rapporto molto molto chiaro con la pittura io sapevo che dovevo dovevo far accadere tutto ciò che stavo facendo sulla superficie e quello era il mio spazio e lì dovevano accadere tutte le cose che io pensavo cioè il mio spazio non era più lo spazio tridimensionale ma uno spazio della superficie del quadro e così e tuttora è così perciò ho cominciato diciamo intorno agli anni 50 sì a metà degli anni 50 perciò tu pensa quello è stato un momento molto importante questo togliermi questo uscire da questa tridimensionalità e considerare il quadro come una superficie da dover trattare in maniera architettonica ecco perché la faccenda dell'informale insomma io ho vissuto tra Gubbio e Urbino ho fatto l'università Urbino per quattro anni ho frequentato Urbino e di conseguenza che quello mi ha condizionato in maniera fondamentale per quello che poteva essere poi il mio futuro Urbino è l'esempio uno degli esempi più degli esempi massimi del rinascimento del rinascimento italiano e di conseguenza l'informale era solamente un eco quasi mi serviva l'informale per entrare in un senso più moderno più contemporaneo della pittura ecco è successo questo praticamente col muro poi sono andato a Parigi sono andato a Parigi perché sapevo avevo visto attraverso un libro che non ricordo dove di un fotografo parigino che avevo fotografato questi muri di Parigi e allora ho detto ma lì c'è la soluzione di quello che io voglio fare adesso e sono andato a Parigi ho preso delle fotografie ho fatto delle fotografie ai muri di Parigi meravigliosi ma Parigi per me è stato lo spazio lo spazio io ho avuto il senso dello spazio a Parigi perché prima andavo attraverso queste piccole strade di Pesaro a fotografare i muri a fotografare i muri delle piccole case i muri sbreccati scalcinati obsoleti che degradavano sporcati dalle scritte ecco quella è stata quella è stata la cosa cioè il momento direi di intimità nel rapporto col muro poi quando sono andato a Parigi poi questa intimità mi è sbocciata nel senso dello spazio e questo ha influito anche nella pittura perché mi sono allontanato mi sono allontanato sempre da un senso pittorico naturale naturalista naturalista hai capito proprio come se ancora quella cosa lì fosse una cosa figurativa il muro della piccola casa di Pesaro della vecchia casa di Pesaro per te Oscar l'enunciazione del pensiero non è sufficiente a determinare l'opera è necessario dopo il progetto o lo schizzo passare l'incontro con la materia allo sporcarti le mani come burri hai avuto bisogno di un rapporto fattivo con i materiali dunque non ti sei mai fermato alla dimensione concettuale dell'arte non hai creato installazioni sei comunque rimasto legato al dipinto ci vorresti spiegare il perché di questa scelta tra le tante possibili dunque questa è una domanda che comprende diverse risposte innanzitutto cominciamo col dire che tu hai fatto il nome di burri anche questa è una è una storia è una storia che si che bisogna accettare perché burri praticamente è stata il pittore che ha determinato la svolta la svolta della pittura della storia della pittura italiana anche europea perciò tutti quelli poi che sai burri era più vecchio di me insomma di molti anni e di conseguenza lui diciamo è stato un maestro un maestro storico un caposcuola della pittura e poi soprattutto di questo movimento però quando fanno l'accostamento perché l'accostamento lo fanno con me ma potremmo farlo con tutti gli artisti di quel periodo sì ma infatti non è il discorso di burri è proprio un discorso di sporcarti le mani con i materiali allora allora sì allora certo tu hai ragione qui siamo sempre nel rapporto tra il classico e il contemporaneo cioè la scelta di questi materiali fuori della tradizione ti portavano di conseguenza a sporcarti le mani perché non è più il tubetto a olio però non hai fatto arte concettuale per esempio no l'arte concettuale io non lo so che cos'è cioè so che cos'è l'arte concettuale però io sono nato un pittore io io devo io devo pitturare devo pitturare io non so fare nient'altro so solo pitturare se tu mi dici mi parli delle installazioni ma io posso anche esprimere un giudizio ma non mi appartiene ognuno ogni artista dovrebbe sapere che cosa gli appartiene perché se fa una cosa magari soltanto per essere contemporaneo per far vedere che è contemporaneo e non gli appartiene vengono fuori delle cose incongrue che non hanno nessun senso e perciò è meglio un pittore che sa di essere pittore però però deve tener conto di tutto ciò che lo circonda di tutto ciò che accade nel mondo certo cioè non deve dire io sono un pittore e dipingo così tu dipingi così e rischi e rischi molto l'artista deve avere delle antenne non tanto per sapere se la pittura sua è giusta o non è giusta deve avere le antenne per accordarsi per accordarsi con i fondamenti di ciò che sta succedendo intorno a lui e questa è la cosa importante sua allora la sua pittura sarà salva sarà sempre salva dicono che la pittura è morta ma non è vero che è morta come si fa a dire che la pittura è morta se l'uomo è nato con la pittura con il segno con il segno è nato l'uomo la coscienza dell'uomo l'uomo è nato con la sua coscienza e quando ha avuto la sua coscienza la sua coscienza di essere tale l'ha avuta nel momento che lui inconsapevolmente perché è così che succedono le cose ha fatto un segno non so dove forse sulla sabbia sulla corteccia su un tronco di un albero su una pietra in quel momento ha detto e cosa ho fatto io ecco cosa ho fatto io io che so è lì ecco perché la pittura è importante dopo è logico che da quel segno siamo arrivati a Michelangelo i bizantini i mosaicisti e questo è stato lo sviluppo Leonardo in un passo del suo trattato sulla pittura scrive che la pittura è il maggior discorso mentale ossia la massima attività dell'uomo perché raccoglie ogni conoscenza e scienza io ho capito che anche tu nel dichiararti pittore tu cur integrale condividi queste parole e dichiari la supremazia della pittura è vero? sì ah certo è visto senza senza sapere quale poteva essere la successiva domanda quasi ti ho già risposto ma è logico che la pittura io qualche volta quando devo scrivere qualche cosa sulla pittura concludo con pittura o morte ma certo perché perché la storia la storia si dice che è questa la pittura quanti esempi abbiamo o quanti esempi abbiamo anche recenti di pittori che hanno dato la propria vita per la pittura allora che cos'è come si fa a non chiedersi ma che cos'è questa pittura perché non è che dice sì ma anche in altri settori ci sono tante tante persone che ci sono buttate dalla finestra ma quelli erano dei matti quelli erano dei pazzi avevano dei problemi loro riguardo riguardo la propria esistenza non erano in rapporto con una disciplina che limiteva sempre in contrasto con la vita con il senso della vita la pittura è questa cosa di cui se la pittura se tu nasci pittore se tu nasci pittore muori pittore e non c'è e non c'è niente da fare un pittore non potrà mai uscire da questo solco che è la sua pittura o pittura o pittura o morte non c'è non c'è niente da fare la storia ma guardiamo guardiamo l'ultimo quello classico Van Gogh ma quanti ce ne sono degli espressionismi tedesco americani Rothko Rothko si è messo nel suo studio si è coperto con un lenzuolo bianco tutto lo studio suo dipinto di bianco e si è sparato ma questo è un atto di poesia di poesia incredibile un atto freddo questi non cioè questi pittori non erano dei pazzi non erano dei folli non è che la mente hanno affrontato questo loro sacrificio con una freddezza con una freddezza e con una consapevolezza fulminante ecco perché la pittura è importante ma la gente la gente in genere questa cosa sai perché la gente non la cresce perché non si dice queste cose non si dicono invece bisogna dirle noi non possiamo fare a meno della pittura ma guardiamo 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 la storia guardiamo la storia allora la storia di millenni indietro che cosa sappiamo noi di questi millenni di quello che è successo lo sappiamo attraverso la pittura che è rimasta attraverso le scoperte un piccolo frammento una tazzetta un utensile in cui c'è una cosa incisa allora ma vogliamo ma le vogliamo considerare queste cose una pergamena perché poi alla fine ho detto pergamena per uno scritto ma alla fine alla base di tutte queste situazioni alla base c'è la poesia c'è la poesia perciò anche la poesia dei versi attraverso un verso cioè attraverso che cosa attraverso un'attività più che metafisica spirituale dell'uomo noi abbiamo la conoscenza dell'uomo attraverso la sua attività spirituale e queste cose non si dicono mai pensiamo solamente a quanto vale un quadro quanto lo dobbiamo vendere tutte queste andiamo sempre a finire lì nell'atto materiale delle cose è più importante un'automobile di un quadro ma non è vero niente però noi dobbiamo avere l'automobile bella perché dobbiamo presentarci facendo sapere agli altri che possiamo nel nostro potere ma quale potere ma qual è il potere dell'uomo il potere dell'uomo è il suo onimismo è questo non c'è non c'è altro potere l'uomo ha quel potere lì il resto fugge tutto gli artisti sono i depositari di questo principio che mette l'uomo al centro del mistero della vita e questo Elisabetta che tu sostieni che la pittura non dipinge mai la realtà non dipinge mai il visibile e neppure l'invisibile del visibile l'artista fa ciò che non c'è dunque un parallelo del reale mi vengono in mente le parole di Cézanne che sosteneva e di dipingere l'equivalente appassionato della realtà sei d'accordo? no non sono d'accordo per niente no non sono d'accordo per niente né con la faccenda che tu dicevi del reale né con cioè perché non sono d'accordo perché a un certo momento io nelle riflessioni sulla pittura così mi sono venute alla mente delle considerazioni che andavano che scartavano questo luogo comune che l'artista l'artista cioè che cosa fa il pittore il pittore lo scultore lo scultore che cosa fanno quando dipingono cioè quando lavorano quando mettono in atto la loro opera fanno l'invisibile l'invisibile cioè l'invisibile della realtà e questa storia va avanti dal 200 fino ad oggi sì ma tu non hai capito la domanda perché io ti ho chiesto proprio quello perché l'equivalente appassionato della realtà quindi è un parallelo non la realtà sì un equivalente appassionato della realtà però quando tu mi usi sempre la parola realtà è nemmeno è nemmeno reale io accetto abbiamo sempre a che fare con qualcosa che ci limita il concetto che io ho espresso quando nella mostra quando ho mandato il premio Salvi a Sassoferrato sul catalogo dici per la prima volta che il pittore non fa l'invisibile ma fa ciò che non c'è cioè il prima il prima di ciò che nasce il prima di ciò che nasce perciò non è l'invisibile e che cos'è il prima di ciò che nasce è qualche cosa che tu non puoi immaginare mentre mentre la realtà è quella che noi vediamo comune a tutti il reale è ciò che della realtà tu dai un'interpretazione io ne do un'altra e di conseguenza questa cosa qui io da quel da quel momento lì poi io non l'ho più accettato poi naturalmente queste sono delle idee che servono un artista va avanti con delle idee non è uno che si mette lì anche se esistono questi pittori che hanno talento saltano la mattina vanno fuori col cavalletto e fanno anche un bel quadro e va benissimo però c'è stato da un certo momento in poi che questa cosa è stata superata cioè l'artista ha cominciato a chiederci ma che cos'è che cos'è la pittura che cosa devo fare io in che rapporto mi devo mettere con l'altro e con la realtà con la storia con la civiltà con i costumi con gli usi allora da quel momento poi c'è stata una considerazione maggiore della propria esistenza del proprio rapporto del proprio rapporto con il lavoro e allora io da quel momento ho detto l'artista in effetti non fa l'invisibile del visibile ma fa ciò che non c'è va a pescare va a pescare qualche cosa va a pescare qualcosa che è che è nel 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 non volevo dire limbo ma già nel limbo c'è qualche cosa proprio nel assolutamente nel nulla assoluto nel nulla assoluto capite Elisabetta la differenza sì certo ma questa è una cosa importante perché prima prima di allora io questa cosa non l'avevo mai sentita da nessuno che l'artista fa ciò che non c'è e questo io l'ho scritto sul catalogo della mozza di Sasso Ferrato certo no potrebbe sembrare una cosa perché se una cosa così la dice un artista famoso allora diventa importante la dico io magari dice ah sì però vedi non è mica stupido quell'artista lì no ma insomma si fa si fa per dire è una è una conversazione ma questo è importante bisogna tenere la mente l'artista fa ciò che non c'è i miei quadri i miei quadri queste cose qua non ci sono dove che cos'è della realtà questa cosa qui non c'è non c'è queste sono cose completamente inventate inventate non è più l'artista dell'ottocento che comunque si mette davanti alla realtà e la interpreta la rappresenta questi quadri non rappresentano niente della realtà se non della propria realtà della realtà di loro stessi e allora queste cose dove si vanno a pescare qual è l'invisibile qual è il visibile di questo invisibile non c'è questo è questo è il risultato di ciò che io ho pensato che la pittura va a pescare dove le cose non ci sono esattamente le inventa completamente come è stato inventato il mondo e io invento la pittura ma è una cosa una cosa impossibile questa no non è impossibile ma certo chi l'ha fatto il mondo noi non lo sappiamo chi l'ha fatto il mondo c'era prima non lo sappiamo se c'era prima prima quando ma sto mondo c'è c'è che idea che non lo sappiamo quante volte noi ci attiamo la mattina e diciamo ma che cos'è sto mondo chi l'ha inventato può darsi che invece non esiste niente e così questo è il mistero della pittura e visto i collegamenti con neanche questioni filosofica no? ma certo la pittura è filosofia e l'hanno dimostrato sempre i grandi nostri maestri cominciando da Raffaello cominciando da Raffaello perché quest'anno è il 500 anni che sì da un confronto con Gesine Arps avvenuto nel tuo studio ho potuto notare che per un verso entrambi attribuite all'arte una funzione etica oltre che estetica però quando lei dipinge si diverte anche e distaccandosi guarda le sue creature con uno sguardo ammiccante tu invece affermi di essere tutt'uno con l'arte e sei più sofferente ti identifichi totalmente con essa e rispondi a quello che Kandinsky chiamerebbe nell'opera teorica lo spirituale nell'arte una necessità interiore ci puoi parlare di questo? ma certo ma certo certo attacco subito dal fatto che la Gesine si diverte dice lei la Gesine che è brava è brava cioè io poi accetto ho rispetto per il pensiero dei miei colleghi assolutamente però il mio pensiero riguardo all'arte non è quello che l'arte ti può divertire se ti diverte meglio per te ma non è questo lo scopo dell'arte lo scopo dell'arte è quello dell'indagine come puoi divertirti a indagare la vita perché la pittura è l'indagine della vita allora dico io anche se tu poi hai un risultato che è un risultato leggero anche se è di grande valenza però tu per arrivare a quel risultato lì dato che pensi che la vita è anche leggerezza però è un'indagine che ti coinvolge profondamente tutto ciò che è divertimento io non credo che sia una cosa profonda assolutamente di conseguenza io mi trovo incontrato sempre quando c'era Sguanci lo scultore Sguanci qui di Pesaro un carissimo amico mio che mi diceva poi io Oscar mi diverto e io gli dicevo beato te che ti diverti io invece no io mi diverto quando ho finito di lavorare ma non quando sto lavorando perché mentre io sto lavorando ogni atto ogni minimo gesto è un gesto che è il risultato di riflessioni di riflessioni profonde e qualche volta non sai nemmeno tu queste riflessioni dove nascono dove vanno ferire dove spariscono dove si depositano sul quadro perciò tu vedi che è una specie di lotta silenziosa con il quadro come facciamo a pensare che Giacometti si divertiva a fare quelle sculture quegli omini quando lui faceva quelle sculture toccava toccava l'impossibilità di avere un rapporto cioè sentiva la distanza fra lui e l'uomo vedeva passare delle persone e non capiva quanto fossero grandi il problema il problema suo era il problema della distanza allora quando io ti dico il problema della distanza cosa significa che tu hai un meccanismo interiore che per accettarlo lo devi lo devi indagare e quando tu le indaghi una situazione di questo genere ti provoca dolore infatti ti identifichi totalmente con l'arte ma certo e con la pittura in particolare quando è finito dico ah se vedo che il quadro mi è riuscito ed è arrivato a una conclusione che io speravo e allora sono contento mi permetto anche un sorriso questa è una domanda breve quando è importante per te la luce la luce la luce per me è importante ma credo sia importante insomma da quando è nata ha cominciato a nascere la pittura degli albori insomma la luce è stata importante ancora adesso io ecco arrivando qua lungo la strada c'era un sole che era coperto da delle nuvi però non troppo ed era come una palla di fuoco bianca che si poteva guardare e tutto intorno c'era una nuvolaglia leggera come fosse un cielo di Turner ed era una cosa sconvolgente cioè la luce allora che cos'è che è la luce e la luce è quella che ti fa vedere poi le cose e te le fa vedere e come te le fa vedere te le fa vedere come l'artista vorrebbe che la realtà fosse ogni volta che si trova davanti nella sua considerazione nella sua considerazione cioè ogni volta diversa allora la luce che cos'è la luce è quello che fa diverso l'aperto l'esterno l'aperto come dice Rilke l'aperto cioè la terra la terra che si apre la terra che si apre i boschi ecco e la luce una volta cioè la stessa cosa tu la guardi dieci volte dieci volte la luce te la fa vedere diversa e questa è la magia e questa è la magia della luce e la magia dovrebbe essere trasportata dall'artista sulla propria opera ecco appunto perché ho potuto notare che in titoli sempre o quasi sempre i tuoi quadri sulla luce certo poi io abito a Cantiano che è un posto meraviglioso dietro dietro casa c'ho il monte Catria il monte Acuto spesso attraverso questi boschi e ogni volta li trovo ogni volta li trovo diversi è una magia è una magia veramente è una magia io vorrei trovarmi di fronte alla stessa realtà che cambia che cambia continuamente perché anche noi cambiamo continuamente io adesso mi presento in una certa maniera fra un po' non sarò più così e di conseguenza è questa specie cioè io la definisco lo definisco questo concetto con il gerundio con il tempo del gerundio cioè la realtà e noi ci stiamo facendo non siamo mai lì così come ci vediamo nel momento in cui ci vediamo ma 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 cambiamo anche nel momento in cui ci guardiamo noi noi stiamo cambiando allora perché mi dicono ma che per esempio qui nella mia mostra ci sono dei quadri che potrebbero sembrare addirittura fatti da artisti diversi ma la cosa importante Elisabetta è che ogni volta che un artista fa dei quadri dovrebbe questo dovrebbe questi quadri queste opere dovrebbero essere sempre originali non uguali fra loro devono avere una loro originalità perché se tu vivi con il tempo del gerundio anche la tua arte deve vivere con il tempo del gerundio e questo cosa significa che tu potresti anche fare un quadro diverso dall'altro ed è una tua ideologia anche se questa parola mi dà fastidio però le cose per fortuna stanno così e di conseguenza l'arte è in continuo movimento io non capisco dopo però l'ho anche capito per esempio prendiamo l'opera di Castellani Enrico Castellani che dicono ha fatto io l'ho conosciuto Castellani quando ho fatto la prima mostra alla Galleria delle Ariete faceva i quadri poi l'ho frequentato per anni per anni e dopo decine di anni faceva lo stesso quadro ma allora dice ma fa lo stesso quadro ma questa cosa è positiva o negativa è negativa se questo quadro ha una scadenza se questo tipo di lavoro ha una scadenza intellettuale ma se questa ma se questa ma se ciò che l'ha ispirato è così forte da mantenere il quadro sempre nel suo valore allora è positivo e questo per ritornare al fatto che l'arte cambia ma l'arte cambia a seconda poi anche dei tempi che si dà all'artista perché io ho dei tempi brevi Enrico Castellani aveva dei tempi lunghi e lui ha sostenuto questa idea per tutta la vita ed è un modo di affrontare l'arte io invece quando arrivo a un certo punto che vedo che quel momento lì ha esaurito la sua carica devo subito cercare qualcosa che si unisce che è uno sviluppo di quello che stavo facendo e questa è la meraviglia dell'arte le opere raccolte sotto il termine di stelle sono precedute da una fase progettuale metodica puntuale precisa che mi ha colpito veramente molto vuoi spiegare come è avvenuto questo passaggio da un periodo in cui i tuoi disegni erano abbozzi che davano precedenza al protagonismo del colore ad un momento in cui hai sentito che il colore doveva essere contenuto entro il disegno riccheggiando il termine da te usato nel catalogo della mostra di Perugia alla Rocca Paolina per spiegarti questa cosa devo rifarmi a ciò che ti ho detto poco fa cioè che io quando ho esaurito la carica che metto nella realizzazione di un certo periodo di un certo periodo di una certa mia pittura di quel momento è perché mi sta succedendo qualche cosa nella vita cioè io non faccio mai un quadro gratis per spiegarmi non faccio mai un quadro gratis perché ogni volta che io metto mano a un'attrezza a un'arnese per concludere un'opera è perché c'è una motivazione alla base e questa motivazione è strettamente legata empaticamente legata alla vita alla vita cioè a quello che mi sta succedendo e cosa che cosa mi succede mi succede la perdita di un amico e così e così e così altre cose una crisi una crisi mia del lavoro e allora io devo sempre avere un rapporto con ciò che ho lasciato non è mai non è mai possibile che non è mai possibile in arte tutto è possibile però per me insomma per quello che mi riguarda devo sempre devo sempre avere un aggancio con quelle con ciò che ho lasciato nella pittura allora che cosa è avvenuto a un certo momento in questi ultimi anni che io mi sono fatto prendere molto dalle scoperte scientifiche riguardo le ricerche dell'universo di questi scienziati sull'universo e ho cominciato a dire ma ma guarda ma guarda te questo cioè gli scienziati adesso ci stanno facendo capire che il nostro il nostro mondo non è solamente il mondo in cui viviamo cioè in cui appoggiamo cioè quel famoso aperto di cui dicevo primo di Rilke che è la nostra terra quella che ci ha formato ma noi non viviamo nel mondo cioè il nostro mondo è l'universo ma questo è una considerazione straordinaria anche se poi nella storia ogni tanto veniva fuori la storia dell'universo così ma semplicemente perché erano delle considerazioni di carattere generico ma invece adesso proprio questa cosa ce la stanno buttando addosso vengono fuori delle misure stratosferiche miliardi di galassie distanze di anni luce incredibili allora noi altri non siamo abituati a così a relazionarci come ci relazioniamo quotidianamente con le cose del nostro mondo con queste altre cose dell'universo invece dovremmo farlo dovremmo farlo invece e allora io ho detto ma quando noi pensiamo alle stelle pensiamo ecco le stelle sono lassù e noi viviamo qua giù poi ogni tanto le guardiamo di notte diciamo qualche notte chiara che belle stelle però è sempre una cosa che poi rimane là come se non ci appartenesse invece io ho cominciato a pensare che ci appartengono ci appartengono allora ho detto ma io ho fatto sempre questi muri queste superfici ma l'artista deve cominciare a pensare a una dimensione a una dimensione altra ulteriore a tutto quello che è stato fatto fino adesso poi il fatto della considerazione che in un'opera si può scoprire anche l'infinito l'infinito nel senso proprio di non sapere che cos'è l'infinito cos'è l'infinito è quello che tu vedi in un quadro di Raffaello in un quadro quello è l'infinito no quello è l'infinito va bene ma io parlo dell'infinito come parlo di un bosco di un filo d'erba di un albero allora noi dobbiamo pensare all'universo come noi pensiamo a tutto ciò che ci circonda su questo mondo allora io ho cominciato a pensare dove si potrebbe cominciare cominciamo con le stelle cominciamo a eliminare la materia che ho usato fino adesso e allora alcuni di questi quadri proprio rappresentano questo momento cioè io ho cercato di allontanare sulla tavola o anche sulla tela ho cercato di allontanare questa materialità che avevo usato fino a quel momento e in che maniera in che maniera cercando di schiacciarla e alcune materie addirittura rutilanti come per esempio la madreperla che ho usato molto oppure la graniglia di madreperla che ho usato molto oppure il carbone proprio la carbonella che ho usato abbastanza e così tante altre materie ho detto queste le scarte perché l'universo è l'universo che cos'è l'universo l'universo è una parola quando noi diciamo l'universo non sappiamo di cosa parliamo però quando diciamo mondo sappiamo di cosa parliamo quando diciamo mondo sappiamo che parliamo della pescheria del pesce della piazza Matteotti eccetera poi dell'amico però quando diciamo universo non sappiamo mai che cos'è quando io ti dico universo che cosa ti viene in mente non ti viene in mente niente allora ho detto io devo cominciare a eliminare queste materie di lutilano e ho cominciato ad usare altre materie però questo è stato un processo che è avvenuto attraverso delle fasi lente fino ad arrivare all'ultima fase che è quella dell'uso dell'acrilico con le polveri con gli ossidi che usavo anche prima però adesso li ho usati e adesso li uso diversamente adesso non saprei dirti che pittura è la mia io non lo so più come non so che cos'è l'universo so solo che l'universo mi sta addosso l'universo mi sta dentro l'universo sta nel mio studio un artista non fa mai le cose se un artista non sa che cosa fa non le può non le può spiegare l'artista io non ho mai trovato un artista vero che non possa spiegare le proprie opere perché se lui non le può spiegare a se stesso non le può spiegare nemmeno agli altri gli altri non le capiscono se non le capisci tu non le possono capire come puoi pretendere che le capiscono gli altri tu devi capire che cosa stai facendo puoi anche cercare poi la cosa è diversa nel momento in cui tu realizzi l'opera allora tu sei immerso dentro questa questa congerie di cose e allora lì lì ti lascia andare e quasi ipnoticamente ti ritrovi alla fine dell'opera e dici ah è finita e com'è che è finita non mi sono accorto e questo è il processo che avviene e questa è la considerazione su cose nuove che ti stanno che ti stanno accadendo e la mia cosa nuova che mi stava accadendo in quel momento era questa considerazione dello spazio mentre lo spazio quello di Parigi era sulla superficie quest'altro quest'altro senso dello spazio è il mistero dello spazio che ci circonda c'è questa misura infinita questa misura infinita ancora noi non lo sappiamo che cos'è io credo che non lo sapremo mai o forse dovranno dovranno passare 300 anni un'ultima domanda e mi sorge spontanea il catalogo di sgregazione e unità inizia il suo repertorio iconografico con politico per Pesaro una citazione di quell'inesimabile perla che è la pala unificata di Giovanni Bellini in quella pala il geometrismo di Piero della Francesca si unisce allo splendore del cromatismo veneto da cui deriva un senso di realtà che rende i personaggi della tavola più che mai veri perché proprio quella pala in cui i Bellini impastando il colore con la luce tocca vertici di realismo viene tradotta in varianti di stelle dunque io non ho pensato di fare questo abbinamento il mio è stata una cosa molto più semplice perché insomma io avevo paura di considerare da un certo punto di vista la pala del Bellini perché quello è uno dei miracoli della storia della pittura mondiale perciò solamente così è stata più una curiosità legata a Pesaro che è la mia città natale poi ho detto voglio fare una cosa che abbia una predellina come la palla del Bellini con la cimasa come la palla del Bellini che è la cimasa che è al Vaticano il museo del Vaticano e così voglio fare un omaggio a Pesaro voglio fare un omaggio a Pesaro e un omaggio a questo grandissimo artista che credo che poca gente sappia che c'è questo dovrebbero venire dall'Australia a vedere questa palla del Bellini e anche Pesaro non la considera veramente come un miracle qui a Pesaro abbiamo una delle tavole più belle del mondo più belle del mondo e a Pesaro secondo me dovrebbe considerarla questa cosa considera Rossini come considera Rossini dovrebbe considerare il Bellini dovrebbe fare delle cose sul Bellini delle manifestazioni organizzare qualche cosa su questo grande pittore di cui abbiamo forse una delle opere più splendide non sue ma di tutta la pittura più fulgida ecco allora io ho voluto così mi sono cimentato però per carità insomma io non c'entro niente con la parola del Bellini va bene grazie Oscar per l'intervista che ci hai rilasciato e per le tue parole grazie al Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro per l'accoglienza io ringrazio te Elisabetta ringrazio l'organizzazione ringrazio anche quelli che mi vedranno avranno pazienza se non sono stato molto chiaro nelle mie esposizioni ma forse credo di essere più chiaro nella mia pittura un grande saluto a tutti quanti a tutti quanti Grazie a tutti.